Si può andare in tribunale senza andare in tribunale? Lo vediamo dopo la sigla. Ciao, sono Fabrizio Bartolino, un avvocato cassazionista che si occupa di diritto di famiglia. Prima di tutto ti invito a iscriverti al mio canale se vuoi essere sempre aggiornato sulle novità e curiosità in materia di diritto di famiglia. Ma veniamo all'argomento di questo video. Si può andare in tribunale senza andare in tribunale? La risposta è affermativa, anche se sembra paradossale, perché con la riforma Cartabia, ma in realtà è una cosa mutuata dall'emergenza Covid, ad oggi nel caso delle separazioni e dei divorzi consensuali, quindi congiunti, possiamo proporre ovviamente queste separazioni e divorzi in tribunale senza andare in tribunale. Perché? Perché mentre una volta si andava comunque in tribunale, mi ricordo nel caso appunto della separazione, si andava davanti al presidente del tribunale, il quale tentava, anche se comunque molto formalmente vi era chi più chi meno, ma insomma tentava questa conciliazione e riappacificazione fra i coniugi, che era proprio una fase dovuta in sede di separazione e solo all'esito di questa tentata di conciliazione poi provvedeva va bene con il seguito a separare i coniugi, magari con provvedimenti provvisori urgenti e proseguendo nella causa, ad oggi non è più così. Questa riconciliazione non vi è e quindi non vi è necessità di presenziare davanti al giudice, anzi proprio in questi casi non viene nemmeno fissata l'udienza in presenza, viene fissata un'udienza cartolare. Qualche giorno prima dell'udienza va inviato un verbale dove le parti dichiarano semplicemente che hanno sottoscritto il ricorso introduttivo e quindi sono consapevoli di quelle condizioni e che quindi le confermano con quel verbale. A quel punto il giorno dell'udienza che è fissata ma in realtà non si tiene materialmente, poi il giudice emetterà il provvedimento, la sentenza diciamo di separazione o divorzio. Quindi si può andare in tribunale, è una procedura quindi che trova sfogo in tribunale, che si presenta in tribunale a tutto l'iter normale di una determinata causa, di una causa ordinaria, ma in realtà non si va mai in tribunale e si ottiene in questo caso la sentenza. È veramente una semplificazione, secondo me anche corretta perché era inutile in questo caso quando le condizioni sono congiunte e concordate, quindi era inutile ovviamente andare là e perdere magari la mattinata per fare una firma diciamo su un foglio dove si concordava quelle condizioni. Vi può essere un caso anche in questa ipotesi in cui diciamo il giudice può prevedere la presenza e quando magari vengono stabilite nelle condizioni sempre concordi, con cui congiuntamente a favore dei figli ma queste non vengono ritenute congrue nell'interesse del figlio. Ora di solito diciamo anche perché qui è necessario l'assistenza di un legale perché non si può fare una separazione o un divorzio oggi senza l'assistenza di un legale, io parlo in tribunale. Ovviamente vi sono casi in cui si può andare direttamente diciamo in comune e quella è tutta un'altra storia, però se si va in tribunale bisogna essere assistiti anche nel caso di separazione consensuale e divorzio consensuale dall'avvocato. Dico questo perché in precedenza invece si poteva dire il tribunale anche senza l'assistenza dell'avvocato. Oggi non è più assolutamente così e quindi sarà difficile che poi magari il giudice ci richiami. A me per esempio però è capitato in un'occasione in cui due genitori si stavano divorziando e lo facevano concordemente. In realtà vi era un mantenimento e un collocamento paritetico del figlio e quindi non era stato stabilito nulla in questo caso a favore come assegno di mantenimento. Ecco in quel caso, parlo di qualche anno fa, il tribunale ci richiamò proprio perché riteneva non possibile questo collocamento paritario e diciamo mantenimento diretto e quindi quantomeno una somma voleva che si venisse scritta nel ricorso. Oggi magari la situazione è cambiata perché comunque il collocamento paritario e il mantenimento diretto sarebbe al più la regola anche se poi di fatto viene difficilmente applicata dai tribunali ma diciamo che comunque oggi forse è più fattibile un accoglimento sotto questi termini. Ecco queste sono le ipotesi in cui magari anche nel caso di ricorso congiunto di separazione o divorzio si possa essere richiamati in tribunale e quindi si debba fare in quel caso una udienza in presenza. Ma tranne questi casi devo dire che appunto si può andare in tribunale senza andare in tribunale.